Buongiorno. Ti chiami? Rubi Luciano. E di mestiere? Vengo dalla Sardegna. Da dove? Provincia Oliastra. E da quanto sei qua? Qui ci sono dal 2005. Lavoro nell'azienda della pecore nera. Si fa di tutto. Quante sono queste pecore? Sono sulle trecento, trecentottanta, arrivano quasi quattrocento. Sono abbastanza. E i pastori invece? Che vedo lì? Questi sono cani che abbiamo allevato noi. No, dico quanti sono? Per un grezzo è così. Vedo già un tre. Ah, dodici. Sono abbastanza. Eh, dodici cani perché a parte che ci sono cinghiale di notte e i pupi, comunque devi avere i cani. Per forza. Noi qui pascoliamo solo di notte perché di giorno è caldo e pascolano di notte. Ah, quindi tu le porti in giro tutta la notte? Sì, sì, di notte. Un giorno con loro. Ah beh. E' un bel lavoro? Eh, insomma, è un lavoro un po' duro. Ah, immagino. Non lo vuole fare più nessuno. Chi mai? Oltre a noi sardi trovi stranieri, però gli stranieri ti restano due, tre mesi dopo vanno. Poi vanno. Perché è un lavoro che ci vuole molta pazienza. O ce l'hai nel sangue se no non lo fai. Chiaro, chiaro. Buon lavoro, eh. Buon lavoro. Ciao.